Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollonu. Guardia di finanza, Ancona, scoperta maxifrode fiscale, previdenziale e contributiva nella cantieristica navale. I finanzieri della compagnia di Ancona, all'esito di una lunga e complessa attività di indagini, hanno individuato un'organizzazione criminale 30 persone denunciate per frode fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio, nei confronti di 5 dei 14 imprenditori che hanno operato nel territorio dorico. Il competente pubblico ministero della Procura della Repubblica Dorica ha già esercitato l'azione penale e il giudice dell'udienza preliminare ha disposto il giudizio. Lo scorso 22 ottobre si è tenuta la seconda udienza dibattimentale innanzi al Tribunale di Ancona, in composizione collegiale. Nei confronti delle restanti persone denunciate è stata già fissata la data dell'udienza preliminare. Gli altri indagati hanno visto le loro posizioni stralciate con trasferimento del fascicolo ai tribunali di Bologna, Monza e Prato.